Si chiama Spendi e Vinci, il concorso organizzato dall'Assessorato al Turismo del Comune di Capodorlando per il periodo natalizio con il coinvolgimento attivo dei commercianti orlandini. Nei negozi ogni 10 euro di acquisti verrà consegnato un coupon che darà la possibilità ad un cliente fortunato di vincere un buono spesa in un supermercato orlandino per il 2018. Maggiore sarà la spesa, più coupon si riceveranno, di conseguenza aumenteranno le possibilità di vincere il premio in palio. Cerchiamo di invogliare le persone a venire a Capodorlando e spendere nel nostro paese, commenta l'Assessore al Turismo, Rosario Milone. Ma questa è solo una delle iniziative messe in campo per rendere Capodorlando protagonista anche nel periodo natalizio che è quello più atteso dei commercianti. Ed è a loro che l'amministrazione comunale si rivolge per una collaborazione sempre più stretta ed attiva che consente di creare una sinergia vincente nell'interesse di tutti. Il concorso Spendi e Vinci sarà in vigore dall'8 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018. Tutti i titolari degli esercizi commerciali che non siano stati ancora contattati dall'Ufficio Turismo possono telefonare per informazioni allo 0941 915 320 oppure chiedere il modulo per la partecipazione inviando una mail a turismocultura.comune.capodorlando.me.it Grazie per la visione! Grazie per la visione!